Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Sonia Bruganelli, nota per la sua presenza costante sui social, ha recentemente condiviso una notizia sorprendente con i suoi follower. Dopo la fine della lunga storia d'amore con Paolo Bonolis, Sonia ha deciso di aprirsi di nuovo all'amore, presentando al mondo il suo fidanzato, Beppe. In uno degli ultimi post sui suoi social, Sonia ha condiviso un video e una foto con un simpatico bassotto dal nome Beppe, definendolo il suo nuovo giovane fidanzato. Tuttavia, c'è un piccolo dettaglio, Beppe ha quattro zampe. Si tratta, infatti, di un adorabile cane dal pelo ruvido che ha conquistato il cuore dell'imprenditrice. Sonia ha condiviso il suo entusiasmo per l'arrivo di Beppe nella sua vita, mostrando il cucciolo in varie situazioni divertenti. Nel post ha raccontato alcuni aneddoti simpatici sul comportamento di Beppe, dimostrando il suo amore per gli animali. Nonostante il cambiamento nelle dinamiche della sua vita sentimentale, Sonia Bruganelli continua a divertire e coinvolgere i suoi follower con il suo carattere spensierato. La notizia del «fidanzato» Beppe ha catturato l'attenzione dei fan, che non si aspettavano questa dolce sorpresa.Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.